e si va destinazione ambasciata da registrare mia figlia come cittadina italiana il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ragazzi i rigatoni bolognese e porcini Mangiarli con le bacchette è la fine del mondo Buono 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 Il puerto Beneamo Solo Grazie a tutti. 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 Buongiorno, vi faccio ridere un attimo. Io ho ordinato la colazione giapponese, mia moglie ha ordinato la colazione all'americana. C'è qualcosa forse che non va, non lo so, ma mi andavo di mangiare più giapponese che mangiare tipo bacon e uova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella, buongiorno. e lasciamo la stanza e andiamo verso la stazione centrale. a Tokyo, 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 facciamo un po' di shopping. Il nome dell'hotel, mi dimentico di metterlo in descrizione. e quindi, come si è un po' di tempo. Grazie a tutti.